buonasera amici di faner e benvenuti a sport city dove la capolista borussia boys sta per affrontare il pandolce nettamente in controllo del possesso palla ma il pandolce si difende ancora bene adesso la prima occasione sui piedi di spagnolo che calcia altasi eccolo reimar che poi col colpo di tacco serve magrini esce mattia e alla fine non si concretizza l'azione pandolce ma attenzione ancora vicini vicini limite dell'area poi reimar pensa forse al tiro lo fa destro col destro non c'entra però la porta lato sinistro scambia con filippini poi si butta dentro adesso arriva anche il numero 11 che calcia attraversa occasione borussia boys poi fiammelli di punta palo e poi la rete fiammelli sblocca la partita 1 a 0 borussia boys zona avanzata al pandolce eccolo il pallone corto fantauzzi il tiro col destro la parata di mattia pronto fiammelli due in barriera fiammelli di punta respinto poi c'è l'iccanè che calcia alto rimasi trova ben in mezzo il compagno che però sbaglia due passi dalla porta occasionissima pandolce un solo uomo in barriera per mattia fantauzzi mattia la tiene lì l'errore attenzione in fase di ripartenza che favorisce cane calcia in porta bravissimo mari verso vicini vicini per fantauzzi fantauzzi ancora per vicini esce bene mattia vicini cambia con dimasi dimasi il colpo di tacco poi si butta dentro fantauzzi e beffa tutti anche il portiere mattia 1 a 1 calcia una volta due volte poi tafani e si salva ancora il pandolce quattro volte quattro tiri in porta canè affrontato da dimasi al pallone sul destro vuole la conclusione poi da dietro per essini colpisce proprio canè gol di fantauzzi dopo il tentativo di vicini 2 a 1 pandolce se ne va dimasi ancora per fantauzzi fantauzzi calcia in porta e fa 3 a 1 grande protagonista fantauzzi pandolce in vantaggio di due gol danza pallone sul sinistro poi sul destro alla fine lo ferma per essini poi però il contrasto favorisce vicini è il quarto gol pandolce sta battendo la capolista dietro filippini poi il pallone dentro attenzione a per essini che può tirare in porta ancora borussia e alla fine si salva pronto dimasi anche un uomo del pandolce a disturbare la barriera provato lo schema non riesce allora fiammelli davanti a mari accorcia le distanze 4 a 2 alla fine del primo tempo buona l'azione di reimar e se ne va ancora attenzione perché in mezzo c'è magrini e reimar non lo trova col passaggio vicini con la finta di corpo poi la da reimar sceglie di non calciare in porta lo fa reimar pallone che torna vicini ma sfuma l'azione fungo mari fantauzzi si gira bene calcia in porta non la trova per pochissimo si butta dentro magrini fantauzzi riesce a servirlo con una magia magrini davanti al portiere fantauzzi fantauzzi attenzione all'azione pandolce e 5 a 2 con magrini facile per mari ora attenzione a tafani esce bene stefano mari tafani tafani per fiammelli trova ancora filippini colpo di tacco tafani palla fuori poi fantauzzi vuole il contropiede perfetto il passaggio di mari fantauzzi si mangia il gol del 6 adottare la partita canè trova bene fiammelli il palo a negare la gioia a fiammelli parte borussia attenzione a peressini la mette dentro fiammelli e la super parata di mari peressini occhio perché la mette dentro il pallone poi sul palo fiammelli si salva il pandone pallone torna a lui attenzione a fantauzzi che la può chiudere fantauzzi il tiro sbaglia davanti a filippini ancora fantauzzi tiene il pallone riesce a girarsi poi la mette dentro ma rinaldi calcia fuori nasi nasi fermato bene da de luca fiammelli fiammelli se ne va sul sinistro ancora lui poi di punta e ancora pronto peressini canè canè ancora per peressini col destro la mette dentro la deviazione di dimasi fa 5 a 3 accorcia il borussia canè canè verso fiammelli fiammelli non riesce a girarsi allora lontana reymar poi filippini gli ruba il pallone fantauzzi e chiude la partita 6 a 3 pandolce finisce così pandolce batte borussia boys 6 a 3